Queste le immagini del Po riprese da uno dei satelliti Sentinel, più che un fiume, uno stagno. Stessa situazione per il Trebbia, per l'Alige e per il lago di Garda. I bacini idrici della Val Padana sono in sofferenza come se fossero in piena estate. La poca neve caduta sui monti e le previsioni di scarse piogge non fanno pensare, al momento, a un'inversione di tendenza. A breve dovrebbe cominciare l'irrigazione dei campi e dei allarme per la produzione di riso, soia, girasole e mais. Anche l'energia idroelettrica ne risente. Già lo scorso anno, secondo Terna, la crisi idrica ha ridotto la produzione del 37%. Poca acqua e di cattiva qualità. L'Italia è al secondo richiamo per non aver protetto, come previsto dalle direttive europee, le acque superficiali e sotterranee dalla contaminazione da nitrati usati per fertilizzare i campi. Inquinamento che mette in rischio la salute delle persone e degli ecosistemi. La siccità non può essere considerata un evento eccezionale, ma una realtà da affrontare. Alcuni comuni hanno già iniziato il razionamento dell'acqua potabile. Se in pieno inverno alcuni tra i più importanti fiumi italiani sono in secca, quest'estate dove ci riforniremo?